a di servizi immobiliari buongiorno e tutto iniziò da qui quando abbiamo toccato il fondo a causa del covid nonostante i nostri due impieghi a tempo indeterminato la nostra situazione economica che prima della pandemia era di tutto rispetto anche con un investimento immobiliare all'attivo a roma per di più era cambiata ma ci siamo detti che da un male dovevamo ricavarne un bene per noi e per nostra figlia e abbiamo deciso di ribaltare la situazione bene Emilia a questo punto è opportuno incontrarci così ne parliamo di persona e andiamo a valutare insieme i mobili quando riuscite a scendere da roma solo Antonio e Rossella ci hanno preso sul serio hanno subito preso a cuore la nostra situazione e ci hanno aiutato meglio preso per mano attraverso svariate consulenze telefoniche e analisi mirate di mercato solo loro ci hanno ispirato fiducia perché gestire investimenti da roma è impossibile senza affidarsi a professionisti seri e affidabili grazie a tutti grazie a tutti